Con noi sei online. Ciao Silvia! Alla scuola elementare Giulio Natta d'Imperia, festa grande per un progetto intitolato progetto Cineforum. Con i bambini della Terza A assieme alle loro maestre Iride ed Emanuela. E Orlando Botti, grande conoscitore di cinema, che assieme ai ragazzi della Terza A hanno fatto questo progetto di cinema, progetto Cineforum. Noi abbiamo avuto questa idea con le maestre che sono state basilari per questo impegno di far vedere un po' di storia del cinema. Partendo appunto dalla nascita, il mio 895, fratelli Lumière, come ben sai, fratelli Lumière, Georges Méliès. E poi piano piano siamo passati ai grandi del cinema muto, c'è Prince Buster Keaton. E devo dire che le ragazze sono state veramente bravi, perché hanno compreso questo progetto. Che come puoi vedere, ciac si gira, progetto Cineforum. E abbiamo avuto anche una sorpresa, perché le maestre non me l'hanno detto, ma settimana dopo settimana, ogni volta che arrivavo a vedere un film, vedevo delle strane figure. E questi ragazzi e queste ragazze, ogni volta che si faceva un film, hanno ennucleato veramente un disegno precipuo al film appena visto. E sono rimasto stupefatto per l'impegno, ricordiamoci che sono in terza elementare, no? Però hanno avuto un'assessibilità, un tatto e un'accortezza, diciamo, di filosofia cinefila, che mi ha fatto veramente onore e mi ha fatto molto piacere per il loro futuro. Perché chi ama il cinema oggi, amerà anche il cinema domani, spero, e andrà soprattutto al cinema. E questa è una cosa importante. Come puoi vedere, adesso stanno sfogliando questo progetto, che ha come contenuto delle frasi che io ho detto, della storia del cinema. Abbiamo, vedete, i film Hugo Cabret, abbiamo King Kong, perché quest'anno era l'anno dello studio del presteorico dei dinosauri, no? Per cui era scontato far vedere Spielberg, ho preferito far vedere King Kong del 2006, per poi passare a quello del 1933, in bianco e nero, perché secondo me bisogna partire dal bianco e nero, perché la storia del cinema è nata così. Vedete, adesso Buster Keaton, un film geniale che è una settimana, e così via dicendo. La casa stregata, un altro capolavoro, e devo dire che hanno avuto una soddisfazione immensa a scoprire questi personaggi che non l'avevano mai visto. Probabilmente non l'ha visto neanche i genitori, però è importante riandare indietro con la memoria, perché soltanto la memoria può salvare la cultura. Qual è il film che ti è piaciuto di più? Hugo Cabretto. A te? Hugo Cabretto anche a me. Anche a te, Hugo Cabretto? No, a me sono piaciuti tutti. Quale disegno hai fatto? Io ne ho fatti vari. Ah, tanti ne hai fatti? Sì, di King Kong, Il Castello Errante di Aos. Avete fatto i film tutti assieme? Sì. Com'è stato? Bello? Sì, perché abbiamo collaborato. Meglio il cinema o i videogiochi? Il cinema. Quale film ti è piaciuto di più? A me Buster Keaton, King Kong. Che film ti è piaciuto di più? Il Castello Errante. Che film ti è piaciuto di più disegnare? Disegnare è stato Topolino. Topolino. E a voi, a te, che film ti è piaciuto di più? Il Castello Errante di Aos. A te? Il Castello Errante di Aos. Il Castello Errante di Aos. King Kong. King Kong. A me Il Castello Errante di Aos. Che film ti è piaciuto disegnare di più? Il Castello Errante di Aos. Il film che più ti è emozionato? Il Castello Errante di Aos. E io ho fatto la mamma, un bambino che è la stazione, poi ho fatto lo spaveta passo e il testa di rappa. E a te il film che ti è piaciuto di più, che ti è più emozionato? Il Castello Errante di Aos. King Kong. A voi? King Kong. King Kong. A me, sinceramente, tutti belli. Tutti belli. Tutti belli. A te? Il Castello Errante di Aos. Chi manca? Chi manca? A me è piaciuto King Kong. Chi manca? Sì. Vai. Il Castello Errante di Aos. Le maestre Iride ed Emanuela. I ragazzi amano il cinema? Hanno imparato ad amarlo quest'anno. Molti non erano mai andati al cinema, però hanno scoperto strada facendo, i trucchi, l'evoluzione del cinema insieme a Orlando. Si sono talmente entusiasmati che io ho dovuto solo seguire il loro entusiasmo per realizzare quello che abbiamo realizzato. Il cinema che è piaciuto più alle maestre? Hugo Cabret. King Kong. King Kong. Quando è cominciato il progetto Cineforum? È cominciato l'anno scorso come progettualità sulla questione dei dinosauri e abbiamo più o meno fatto con questa scusa una bella carrellata dal cinema muto al parlato, dal bianco e nero al colore, passando appunto per i punti più importanti della storia del cinema. È una progettualità con una decina di film che speriamo sia di aiuto anche per il prossimo anno con un nuovo progetto perché ci sono delle basi sostanzialmente valide per progredire nella storia del cinema e amare ancora di più la storia del cinematografo che secondo me è basilare nella scuola di oggi dove l'immagine è primaria rispetto a tutte le tecnologie che ci sono e al messaggio che si dà. Ormai siamo nella società dell'immagine per cui a scuola secondo me è obbligatorio fare la storia del cinema. Semplicemente questo dico. Viva il cinema! Con noi sei online! Grazie! 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 Grazie!